Negli ultimi 3-4 anni Sassari ha registrato un trend crescente di turisti che scelgono la città per soggiorni brevi. Vediamo il servizio di Salvatore Carboni. Negli ultimi 3-4 anni Sassari ha registrato un trend crescente di turisti che scelgono la città per soggiorni brevi anziché optare per le più rinomatte località costiere come Alghero, Castelsardo e Ostintino. Questo fenomeno è in parte dovuto a ragioni economiche. Sassari offre alloggi a prezzi più accessibili. La domanda per le case vacanze è in costante aumento con un'occupazione media del 51% e un prezzo medio a notte di 107 euro. Recenti dati evidenziano una preferenza marcata dei turisti per le strutture extralberghiere rispetto agli hotel tradizionali, contribuendo all'economia circolare e locale. Il settore extralberghiero non solo offre alternativa di soggiorno ma permette anche la riqualificazione di numerose seconde case generando un'opportunità di reddito per i proprietari. Nonostante il centro storico di Sassari non sia ancora pienamente valorizzato, le zone semicentrale ben servite continuano ad attirare i visitatori. La maggior parte dei turisti previene dal nord Europa e tende a spostarsi tra le località costiere, ma anche nell'entroterra, mostrando un interesse crescente per un'esperienza turistica variegata. Le strutture extralberghiere di Sassari registrano una media di fatturato annuale compresa tra i 60 e 70 mila euro. L'investimento nella comunicazione e nella promozione delle strutture è fondamentale, un prodotto ben presentato e dotato di tutti i comfort, può far passare in secondo piano la posizione. Negli ultimi anni, afferma Mimmo Moro, delegato nazionale AIGA, Associazione Italiana, gestori affitti brevi, Presidente Unione Turismo con FAPI Sardegna, abbiamo notato un crescente trend di turisti che preferiscono soggiornare in città per locazioni brevi, anziché spendere di più in località turistiche costiere. Sicuramente dobbiamo migliorare soprattutto nei servizi come market e negozi, molti dei quali ad agosto chiudono. L'ospitalità extralberghiera, che rappresenta il 55% del settore a livello nazionale, sta erodendo il fatturato degli hotel tradizionali. Dobbiamo ancora adattarci a questo tipo di turismo, è necessario formare gli operatori e chiedo alle istituzioni di vestire in corsi di formazione gratuiti per supportare questa transizione, senza gravare sui privati, conclude Moro. Per affrontare le sfide future sarà cruciale un impegno congiunto tra operatori e istituzioni.